Sono sicuramente molto contento perché era un obiettivo della stagione questo per cui volevamo raggiungere un qualche traguardo e quindi la finale è un traguardo però arrivarci vicino conta solo a bocce quindi dobbiamo già pensare alla finale e quindi mente alla finale e siamo pronti per giocarcela. Non era facile arrivare fino a questo punto qua nonostante l'età nonostante noi siamo andati avanti con l'esperienza infatti si è visto le occasioni che abbiamo avuto le abbiamo sfruttate ne abbiamo sbagliate anche tanti durante la partita perché siamo andati penso 6-7 volte da solo col portiere. Sapevamo di subire perché questa è una squadra così come a Prato sono giovani corrono corrono noi l'unica l'unico modo per mettere in difficoltà è perché non ha proprio non avendo fiato allenamento e giocare un po' a zona e giocare di rimessa ed è andata bene. Diciamo che nel complesso delle due partite pur se abbiamo subito tutta la partita comunque d'esperienza non abbiamo fatto del gran gioco ma alla fine quello che conta era la finale. L'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio più che in campionato era arrivare in finale di Coppa e adesso la finale ce la giocheremo insomma.